Dunque, coinvolgerei il sindaco Tambellini, dato che siamo arrivati così un po' a un punto di svolta, perché fino ad ora abbiamo parlato di un'emigrazione che non è la classica, fra virgolette, emigrazione, che in fondo, quella che vediamo nelle immagini, quella che raccontiamo con i documenti della Fondazione Paolo Cresci, quindi diciamo il grande flusso emigratorio dell'Italia postunitaria, ma di una vocazione di un territorio come il nostro, fatto di professioni che forse hanno cercato all'estero sbocchi di mercato, anche questa è una vocazione all'emigrazione, un'emigrazione che abbiamo descritto a volte un'emigrazione povera, determinata dalla necessità, ma invece anche un'emigrazione che è uno spirito, uno spirito vitale, una ricerca di rapporti anche commerciali, e in questo abbiamo trovato anche una caratteristica del nostro territorio. Quindi chiederei al sindaco una sua riflessione su questo. Io vi posso dire dell'emigrazione che conosco io, perché in qualche modo mi ha toccato. Beh, devo dire innanzitutto che io vengo da una famiglia dove mio padre aveva nove fratelli, tra questi nove fratelli c'era anche una sorella, quindi erano dieci, nove maschi e una donna. Niente a paragone della nonna della mia moglie, che ha avuto un numero impreciso di gravidanze intorno a 24. Quindi, poi quanti siano rimasti nati io non so neancora, perché so che erano ben più di dieci, però vi devo dire, lei era lucana, quindi io rappresento un po' l'Unità d'Italia da questo punto di vista. Posso dire che sicuramente ha avuto, non so, 14-15 figlioli, non ho mai fatto il conto preciso, in 28 anni non sono mai arrivato a capire quanti erano esattamente. Ecco, nel meridione c'è stata una migrazione importante verso i paesi del Sud America, verso i paesi del Nord America soprattutto, e determinata dalla presenza del latifondo, perché nel meridione il lavoro era soprattutto un lavoro di carattere agrario, largamente agrario, e nell'agricoltura dominava il latifondo. Per cui l'idea di trovare condizioni migliori in luoghi ancora poco abitati, che offrivano larghe possibilità, è stato quello che ha costituito la grande molla per l'emigrazione meridionale. Da noi le cose sono andate un po' diversamente, perché? Perché innanzitutto la vocazione dei lucchesi a andare in giro c'è sempre stata, è sempre esistita, è sempre esistita fino al Medioevo, non racconto niente di nuovo. Oggi c'è una nuova interpretazione del quadro di Jan van Eyck, che noi conosciamo come i congiugiannolfini e che io continuo a ricordare come i congiugiannolfini. Per me, loro due sono Giovanna Cenami e Giovanni Annolfini. Nessuno mi mette in mente che sia qualcosa di diverso, no? C'è un'interpretazione diversa, la dal Paoli tra l'altro, però io ancora dico... Poi ci sono testimonianze innumerevoli, voglio dire, perché ci sono testimonianze sicuramente importanti da certi punti di vista che rendono conto dei Gigli, per esempio, la famiglia Gigli, che è la famiglia che aveva il palazzo dove la cassa di risparmio, loro erano i banchieri, erano i d'Inghilterra, i soldi si perpetuano nei luoghi, no? C'è anche questa perpetuazione dei luoghi, lì se sono sempre immuginati i quattrini, ancora si fa così a distanza di molto tempo. Ci sono stati rapporti addirittura con l'Ungheria, la Polonia. È venuto un signore l'altro giorno, mi ha fatto vedere un palazzo Orzetti che si trova in una città della Polonia. Quindi mi sono a trovarmi appunto in palazzo Orzetti perché, a sapere di questa cosa, è un palazzotto che si trova in una città della Polacca destinata oggi a museo, comunque si chiama Palazzo Orzetti, non si chiama R'Amica per nulla, voglio dire, no? Ma Michele Martinelli, se andate al collegio e guardate i medaglioni sopra che raffigurano i grandi lucchesi, trovate anche citato Michele Martinelli. Michele Martinelli era un architetto, un ottimo architetto, sconosciutissimo da noi. Vorrei sapere chi lo conosce, quanti sono tra voi che conoscono Michele Martinelli? Penso pochi. Eppure Michele Martinelli ha lavorato moltissimo nel Settecento nelle città dell'Europa dell'Este e ha costruito intere scenografie urbane nelle città dell'Europa dell'Este. Quindi c'è una vocazione. Abbiamo ricordato ieri il 28 era l'anniversario della morte di Boccherini, il 28 di maggio 1805. Boccherini se ne andò fuori, andò in Spagna. Geminiani era stato in Inghilterra, tra l'altro fu il primo italiano iscritto alla massoneria inglese. Quindi c'è una vocazione degli italiani, dei lucchesi a andare, perché c'è sempre stata. Del resto la mercatura e l'attività bancaria nasceva dalla possibilità di movimento. Avevamo rapporti con le fiandre, poi si possono fare innumerevoli citazioni in tal senso. Il famoso libro delle ore della famiglia Trenta è un libro delle ore che proviene dalle fiandre, per cui significa che i rapporti c'erano e erano forti. A Lucca c'era una condizione di difficoltà economica, però attenzione, perché non c'era una condizione miserabile. Non c'era una condizione miserabile. L'agricoltura a mezzadria era diffusa, ma non come da altre parti. C'era una forte diffusione invece di una piccola proprietà terriera che si caratterizza nell'uso della corte. La corte prima di tutto è l'espressione della piccola proprietà agraria che diventa poi successivamente anche espressione di ambientazione urbana, ma soltanto successivamente. Per cui si era sì poveri, ma non miserabili. Per cui si andava e molto spesso si andava per far qualcosa di meglio di quello che si poteva fare qui. Però io non mi ricordo neanche, e neanche la mia figlia si ricorda, di persone che patissero la fame. Tutti avevano qualcosa e tutti in qualche modo riuscivano a vivere. Le grandi prospettive poi evidentemente c'erano. e le persone si spostavano anche per portare altrove delle abilità che avevano. La comunità di Pittsburgh ha molti sant'allessiesi, anzi c'è Arnaldo che ricorda sul giornale la tambellineria che trova negli Stati Uniti e in particolare a Pittsburgh. E cosa fanno a Pittsburgh? Che diventano panettieri. perché la panificazione secondo il modello italiano era una panificazione che aveva fortuna e andò bene. Andò tanto bene che costruirono poi il primo sistema di panificazione di Pittsburgh e hanno avuto la più grande panetteria di Pittsburgh. Poi hanno avuto varie vicende non tutte simpatiche però nell'epoca buona hanno avuto questo. Poi i tambellini hanno avuto la ristorazione perché sono stati ristoratori importanti in quelle zone. Quindi c'era un'attività anche artigianale che poi veniva esportata. La falegnameria per esempio era una delle altre cose che si facevano. Quindi si andava fuori soprattutto per prospettive di miglioramento della propria vita indubbiamente ma molto spesso anche per un senso quasi di scoperta del nuovo o di volontà di vedere ciò che accadeva in altri posti. Tant'è che io non ho notizia e ne ho conosciuti tanti di persone originali del mio paese che se ne siano andati e si siano trovati malissimo altrove. anche perché avrebbero avuto in ogni caso un luogo a cui fare ritorno. Il tema del gelato è un tema che ancora si perpetua perché ci sono ottimi lo sapete ora non faccio pubblicità però ci sono ottimi gelatai lucchesi che hanno gelaterie ancora in Germania tranquillamente ancora. Quindi ci sono famiglie della nostra città che hanno quattro gelaterie sparse per la Germania dove il prodotto ha una grande fortuna e quindi si sono trovati anche attività e prodotti che hanno avuto una grande fortuna un grande successo naturalmente per la qualità però ripeto il nostro artigianato era un artigianato di alto valore poi l'abbiamo disperso ma questo è un problema nostro e una colpa nostra e quando i nostri artigiani si sono poi recati nei varie parti del mondo hanno hanno sempre ottenuto notevoli risultati un po' diverso da come succede come succede ora so di un ragazzo che è felicissimo a città del capo dove fa il posteggiatore il posteggiatore ed è molto felice di fare il posteggiatore un ragazzo giovane qui credo che fosse laureato in legge e non riusciva a trovare il verso della miria di avvocati che ci sono di farsi una vita tranquilla o come uno spera dopo aver studiato magari un po' ecco laggiù fa il posteggiatore molto tranquillo penso che il raffronto tra il mondo di ieri e il mondo di oggi forse qualcosa dovrebbe insegnarci sì grazie dunque sì giustamente dice il sindaco nella piana di Lucca i contorni dell'emigrazione spesso e forse per la maggior parte non hanno toni drammatici ma se arriviamo a parlare della grande migrazione postunitaria e se leggiamo tante perché appunto nell'archivio Cresce abbiamo documenti fotografici ma anche cartoline lettere da cui ci sono delle dichiarazioni istruggenti spesso che quasi nascondono vogliono però all'interno di questi testi leggiamo fra le righe anche la drammaticità di situazioni che spesso si ha un pudore nel vorer raccontare alla propria famiglia d'origine quindi anche questa soprattutto quando parliamo di emigrazione dalla Garfagnana e diciamo le storie si fanno più drammatiche quindi chiederei a Bianchini ecco i contorni di questa emigrazione della grande flusso emigratorio postunitario sì l'intervento del sindaco onestamente la parte finale la parte iniziale è estremamente interessante perché ha dimostrato come era a conoscenza di un quadro che peraltro si rifaceva un po' ai concetti che avevamo detto noi all'inizio dell'immigrazione tipicamente lucchese ma con quell'accenno a quella piazza del pianto che c'è anche in Venezuela a Caracas io rivedo un po' di più e meglio quelli che sono le problematiche dell'immigrazione della Garfagnana perché vedete quando sento parlare o delle figurinaie o gelatine e di cose anche abbastanza recenti interessantissime però non si rivela il dramma invece dell'individuo che già cominciava a soffrire quando cominciava a pensare di dover andare via di casa nella preparazione della partenza nel viaggio nell'arrivo in una nazione per lui sconosciutissima dove non sapeva cosa avrebbe fatto ed era portato per fare qualsiasi cosa molti Garfagnini per esempio mi viene in mente Corfino si diceva che andavano soprattutto in Inghilterra perché andavano a fare praticamente il lavoratore dietro le cucine cioè lavapiatti che poi questa situazione garantiva loro anche magari un tetto dove dormire in qualche maniera per poi risparmiare e quanto prima tornare in Italia perché poi per quel tipo di emigrazione era un modo per riuscire a mettere insieme un gruzzoletto magari per pagare allargare la proprietà che poi erano proprietà povere perché quando noi in Garfagnana sapete le famiglie ricche a quell'epoca che dovevano campare col terreno dovevano avere 20-30 poderi si chiamava 20-30 poderi perché erano piccoli appezzamenti dove di cose importanti non ne venivano cominciate a dire che non c'era non c'è l'olio non c'è il vino ora un po' la inventano in qualche maniera ma all'epoca di sicuro non c'era oltretutto si cercava di coltivare viti che facevano un cattivo vino ma che garantivano con qualsiasi tempo una produzione che faceva comodo tanto per allungare l'acqua o per tingere l'acqua per cui questo il dramma vero di questa gente apro una piccola parentesi che anch'io lo sono venuto a conoscere di recente quando è stato presentato voi pensate che e questo è un caso per esempio atipico questo è un cittadino un po' è stato inventato un po' tratto dalla realtà e un po' dalla fantasia dello scrittore un garfagnino che parte da Vagli a Vagli faceva il maggiante per cui questo individuo in questo caso invece è andato in America nel tentativo come dire di riuscire nella sua professione che secondo lui era quella dell'attore che è un po' diverso da quello che diceva poco ma la prima cosa che ha fatto in America sapete si chiamava Antonio Bevi l'acqua ha trasformato il suo nome in Tony Drink Water questo tanto per darvi l'idea delle difficoltà questa era gente che lasciava il cuore a casa e metteva tutta la forza la disponibilità l'impegno il sacrificio pur di far prima possibile per tornarsene a casa sua affrontando problemi inimmaginabili ecco insomma io torno a dire e anche la migrazione di quel periodo che ha trovato un culmine io credo nel 1912 13 14 perché anche lì andrebbe fatto una piccola disgressione il culmine della migrazione della Garfagnana intorno a quell'epoca lì 12 13 però guardate che nel 15 in occasione purtroppo della guerra molti sono orientati per andare a fare la guerra tant'è vero nella fondazione Cresci noi abbiamo un'ampia documentazione che cercheremo ora di mettere in evidenza nel ricordo festeggiamenti dei 100 anni proprio perché c'era questo loro ritorno rimpatto non era legato al fatto che avevano fatto gruzzoletto ma sentivano il dovere di tornare perché si era di fronte ad un evento di quel tipo per cui voglio dire quello dell'emigrazione lo dicevo prima è veramente una cosa inimmaginabile una messe di notizie di un'importanza rilevante ancora oggi potrebbero veramente darci una mano nell'aiutarci a capire e anche a solleciterare magari anche soluzioni un pochino diverse quando si fa fatica a accettare anche aspetti apparentemente banali della vita di quello che ci propone la vita giornalmente grazie intanto volevo ringraziare il sindaco Tambellini per essere qui con noi stasera quando ho telefonato a lui qualche settimana fa per invitarlo mi fece presente molti impegni quindi grazie particolarmente per essere stato qui ma sapevo che aveva vissuto l'emigrazione sulla pelle nella famiglia e quindi avrebbe portato un contributo al di là del saluto e della presenza istituzionale importante una piccola nota sulla Garfagnana è vero che la Garfagnana ha un'emigrazione diversa anche perché la Garfagnana ha una storia diversa dalla Lucchesia intanto è una regione di confine è una regione dove ci sono sempre state lotte battaglie passaggi da un dominio all'altro frammentazioni e quindi tutto questo ha sicuramente diciamo aggravato la situazione economica e quindi poi ha favorito la partenza il vivere diversamente il dover partire anche questo sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione una nota volevo farla per quanto riguarda l'esodo postunitario sulle condizioni che i nostri emigranti visto che giustamente anche su questo bisogna porre attenzione hanno sofferto in quegli anni io ho avuto a volte mi chiedo tu presidente dell'Uccisione del mondo chi c'hai fuori io veramente ho vaghissimi parenti lontanissimi in California mio nonno però emigrò mio nonno è nato cento anni prima di me quindi nel 1874 nello stesso anno in cui a San Francisco fu fondata la società di Cavalleggeri di Lucca 1874 lui partì da San Concordio probabilmente senza aver mai visto il mare andò alla Rochelle e già attraversare Parigi e passare da una stazione all'altra perché poi ho scoperto che dovevano passare da una stazione all'altra mi immagino per un uomo di San Concordio cosa potesse essere arrivare alla Parigi del 1894 cioè era una città meravigliosa e poi affrontare il viaggio oltre mare ecco i disagi furono moltissimi e moltissime le tristezze di tutte ne cito una oggi mi sento particolarmente incline diciamo alle sfumature femminili forse perché stranamente non sono in pantaloni ma in gonna molti bambini morivano durante le traversate e pensate i più piccoli soprattutto morivano e morivano per il troppo amore della mamma perché cosa succedeva le madri spesso cercavano di raggiungere le terze classi le infime classi di questi bastimenti prima per trovare i migliori alloggi i migliori lettini insomma e queste donne spesso anzi quasi sempre ignoranti vedevano i bocchettoni dell'aria e dicono beh qui arriva aria salubre e ci mettiamo qui l'aria era fresca ma era un'aria spesso fredda soprattutto nelle traversate invernali e moltissimi moltissimi neonati o piccoli bambini morivano per complicazioni polmonari per febbri e per malattie di questo genere e poi c'era l'arrivo all'ilà dell'oceano spesso ad Ellis prima a Clinton Castel che fu il primo attranco dei nostri e poi ad Ellis Island con un inserimento in un ambiente diverso dove però c'era una preparazione all'immigrazione negli Stati Uniti perché venivano fornite indicazioni di base venivano fornite indicazioni sui luoghi dove poter andare a lavorare quindi c'era un primo orientamento il grave disastro dei nostri non fu tanto all'arrivo quanto nei porti di partenza perché spesso a Genova venivano presi da furfanti spesso truffati dalle stesse compagnie di navigazione che li imbarcavano li facevano arrivare a Genova 10-15 giorni prima dell'imbarco queste persone dovevano rimanere sul porto dovevano essere indirizzate da degli osti che poi ovviamente si approfittavano di loro e poi quindi sfruttati in questa maniera questo dette vita fra l'altro ad un personaggio meraviglioso nella nostra storia che è padre Marchetti allora lì ci fu un'immigrazione tutta particolare il paese di Compignano tra Luca e la Versilia il paese di Compignano è stato uno dei pochi paesi che a un certo punto si è completamente spopolato quasi tutti insieme a partire una volta del Brasile padre Marchetti era lì sacerdote da poco e li accompagnò fino a Genova quando vide che cosa succedeva a Genova dei suoi compaesani quelli che erano le anime che avrebbe dovuto diciamo coltivare nella fede tornò e chiese a una dispensa all'arcivescovo parlò con padre Scalabrini che nel frattempo aveva fondato gli Scalabriniari e andò in Brasile andò a San Paolo e lì cominciò a costruire comunità diciamo di accoglienza portate avanti da religiosi anche che chiamò la sorella che proprio allo scorso anno a ottobre è stata beatificata e costruì laggiù una prima rete di accoglienza per i nostri quindi dallo sfruttamento del porto di Genova questa figura molto bella che si erge a simbolo un po' della lucchesia e anche dell'umanità che c'è nei nostri lucchesi abbiamo parlato di laboriosità di intraprendenza ma anche di umanità Massimo Betti prima aveva accennato insomma anche per girare un po' no? verso qualcosa di che non ci era tristi dato che effettivamente poi i contorni necessariamente della grande dell'emigrazione dei grandi numeri sono contorni spesso se non drammatici spesso con toni tristi però invece ci aveva accennato o qualche aneddoto o qualche curiosità sull'intraprendenza invece dei nostri emigranti e quindi li passerei Sì beh giustamente anche le osservazioni del dottor Bianchini sono state importanti nel senso che ovviamente c'era il bisogno si partiva e sicuramente abbandonare abbandonare il proprio la propria terra natia era una sofferenza io ho calcato particolarmente sull'intraprendenza ma è ovvio che questo aspetto c'è sicuramente queste persone partivano senza conoscere neanche le lingue stranieri senza neanche sapere a volte dove andare a piedi su su tra le altre cose ecco per esempio un detto abbastanza conosciuto tra i figurinaia è la spartizione alla figurinaia che cos'era la spartizione alla figurinaia e queste persone arrivavano in un ambiente in cui non sapevano la lingua non sapevano niente non conoscevano neanche il valore del denaro la compagnia era fatta 3, 4, 5 persone e mettevano queste figure in gesso perché questo era il tipo di Mestucco poi in gesso in vendita e prendevano i soldi ma quello che gli davano non avevano neanche la più pallida idea immaginiamo di punto in bianco noi proiettati non dico all'estero dove sappiamo sulla luna ecco in mezzo ai marziani quindi una situazione è arrivato a un certo punto fa i soldi faceva avanti e indietro da Bagni di Lucca lui era originario della zona di San Cassiano di Gombereto e comincia ad avere una certa stabilità finanziaria parte e va a Vienna va a Vienna dove finalmente questa volta mette sulla famiglia prende compra casa a Vienna mette su una bottega di dolciumi e di rovetta varia un piccolo ristorante proprio nel Graben nella strada principale di Vienna fino a che è tutto contento ormai raggiunge una certa benessere quattro figli piccoli 1915 scoppia la guerra e quindi 1914 scoppia la guerra 1915 entra in Italia e tutti gli italiani vengono presi cari ora ve ne tornate a casa vengono spogliati completamente di quello che sono i loro beni rimandati indietro quindi questo episodio mi l'ha raccontato la figlia Matilde Borghesi che aveva più di 90 anni negli anni 90 e lei si ricorda ancora piccolina di 5-6 anni che tornavano indietro in questo viaggio mentre stanno passando da Genova per rientrare a casa e lui tutto ormai molto disilluso molto triste e faccia la finestra vede passano accanto a quella che era il porto con la dogana vede un traghetto in partenza si gira bacia i bimbi salta giù dal treno parte di corsa scavaica la dogana con i doganieri l'inseguono e si butta e monta su questo traghetto al volo per cui prende parte e va in America va in America dopo circa 7-8 mesi poi manda una lettera a casa raggiungetemi aveva già ricostruito un qualche cosa andare avanti in questo aspetto poi mettiamo pure la moglie che è rientrata invece a casa con quattro figli con tutte le difficoltà che si trovò a gestire e dopo nel 1922 è rientrato finalmente dopo aver rifatto i soldi portò e fondò ha creato a Bagni di Lucca uno dei ristoranti degli ambienti più noti ormai negli ultimi cento anni in cui addirittura aprì un saloon con i ventilatori con la scuola sputacchiera mi ricordo era ragazzo c'era ancora con una cassa di argento tutta tutta girata e con la porta che sbatteva era diventato il locale più tipico della zona tra parentesi domani la pronipote apre nuovamente la nuova gestione di questa struttura storica ecco questo per dirvi a volte quali sono i personaggi un altro aspetto che mi piace sottolinearlo perché non è stato mai raccontato l'ho avuto dai che non lo vogliono diffondere ma che è importante dei figurinari di San Cassiano perché c'erano tutte le testimonianze tutta la documentazione ma se la tengono sarebbe importante questi sono in America San Francisco quelle parti lì e si trovano sotto il pizzo perché all'epoca c'era la mano nera siamo ovviamente prima della guerra e quindi che continuamente li taglieggiavano per fare per tirare avanti la loro attività questi incavolati neri di avere questa non sopportavano la situazione finché decidono di rientrare in Italia quindi fanno vanno dalla mano nera poi ovviamente facevano le prestazioni a usure si fanno dare una saccata di soldi e per fare tutta la cosa quando prendono questa situazione chiudono bottega salutano tutti e partono e tornano in Italia allora questi hanno ricevuto e c'erano tra la documentazione le lettere della mano nera con la loro cosa che diceva se tornate in America siete tutti morti e questi con grande soddisfazione hanno detto beh ci siamo levati una grande soddisfazione ecco questi sono piccoli piccoli aspetti che denotano quanto questa sofferenza questo 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 legame questo 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 impegno totale era superato questa sofferenza di staccarsi alle radici era superato da una grande voglia di darsi da fare e di impegnarsi dunque io eh dato che eh gli interlocutori siamo siamo tanti c'è anche un caffè che poi ci aspetta e che quindi ci permetterà poi di continuare anche singolarmente con domande e conversazioni però farei un ultimo giro nel quale coinvolgerei anche Fantoni con una riflessione su diciamo l'emigrazione oggi no? quindi sono tanti il nostro alter ego fuori Lucca o fuori no? fuori nazione è nutrito i rapporti sono intensi e sia l'area del bianco come naturalmente collettore di tutte queste comunità di lucchesi nel mondo la fondazione cresci con i progetti numerosissimi culturali le attività di divulgazione i singoli amministratori l'unione dei comuni che peraltro partecipa alla fondazione cresci con un proprio rappresentante e poi comunque con i numerosi amministratori diciamo di un territorio che ha dato così tanto al fenomeno migratorio quindi chiederei ecco in un ultimo giro e poi continuerei una conversazione con gustando il caffè della della Ben Annini e i biscotti del Pinelli con ecco il valore dell'emigrazione oggi che cosa dà da un punto di vista turistico culturale di arricchimento umano di approfondimento appunto di esperienze comuni il cui valore come diceva prima Bianchini forse oggi ci insegna e ci può ancora insegnare così tanto ecco farei un ultimo giro su questo coinvolgendo anche Fantoni e partendo da Bianchini grazie ci sarebbe da dire tante cose mi viene in mente solo riprendendo un po' il discorso che avevo fatto fino ad ora mi viene in mente invece di mettere risalto come purtroppo l'emigrazione per certi reti purtroppo dovremmo forse aprire una piccola parentesi ma non lo faccio per brevità purtroppo oggi l'emigrazione che ha ripreso da qualche tempo legata alla situazione economica generale è un'emigrazione estremamente diversa io mi riferisco sempre alla Garfagnana alla valle del cerchio più in generale è un'emigrazione fatta di persone che hanno studiato predomina largamente l'individuo che è laureato che è diplomato e che purtroppo non ha trovato nemmeno quei lavori diceva il sindaco quello che è andato in Sudafrica a fare il posteggiatore per cui deve cercare soluzioni alternative e questo al di là del dramma dell'individuo che deve lasciare la casa la famiglia gli affetti tutto quello che è legato all'emigrazione perché emigrare non vuol dire andare a fare una villeggiatura nei posti vuol dire andare lontano da casa lasciare gli affetti sacrificarsi impegnarsi almeno quelli che ci vanno con l'intendimento di risolvere alcuni problemi dicevo ma è anche una perdita economica per la nazione perché noi a questi ragazzi abbiamo speso per portarle al diploma alla laurea e poi le perdiamo ci auguriamo tutti di poterci organizzare in maniera tale da poterli recuperare quanto prima perché è un patrimonio che noi perdiamo ecco questo è un po' l'aspetto che è così cambiato anche per noi della Garfagnana e ovviamente in quel senso lì anche noi come fondazione cresci al di là del compito fondamentale che è quello dicevo io del mantenimento del patrimonio che abbiamo e che cerchiamo di metterlo di farlo conoscere sempre più e meglio e di permettere a disposizione di chiunque voglia approfondire gli studi e via discorrendo noi ci si sta questa è storia recentissima perché come dicevo io mi sono insediato da pochi giorni però nel nuovo consiglio abbiamo l'unica volta ci siamo trovati per ora quello di vedere se anche come fondazione cresci possiamo come dire diventare un pochino più dinamici e interessarsi oggi di questa nuova situazione che è questa nuova emigrazione per mettersi a disposizione insieme ad altre associazioni che già magari lo stanno e lo hanno fatto mettersi a disposizione di questi ragazzi per creare loro una rete di riferimento per esempio per trovare un accesso più facile per avere gli indirizzi dove per esempio quella nazione piuttosto che quell'altra trovare più spazio per quella che è la professionalità dell'individuo ecco per cui certamente anche per noi è estremamente diverso il discorso resta sempre amaro il fatto che sono ragazzi che devono prendere e abbandonare la loro famiglia certamente è come dicevo prima un modo di riflettere e forse questo ci dovrebbe far riflettere ma io voglio assolutamente aprire un altro settore un pochino quello l'obbligo dell'assistenza di quelli che hanno bisogno di emigrare e che noi purtroppo ce l'abbiamo alle porte per cui spesso siamo portati a tirare delle somme in maniera molto sommaria perché essendo noi tutti in condizioni così difficili si mantiene difficilmente l'equilibrio per valutare al meglio certe situazioni che ci dovrebbero toccare così da vicino visto che siamo una provincia una nazione ma soprattutto una provincia che ha sofferto molte nel tempo per l'emigrazione dunque parlare del tema che ha introdotto Francesca credo sì perché se abbiamo parlato un'ora e mezza dell'emigrazione storica di questo dovremmo parlarne forse meriterebbe almeno tre ore quantomeno per i riflessi che ha sull'oggi sulla concretezza dell'oggi cercherò di essere sintetica e parto da un presupposto fondamentale cioè da chi siamo noi noi siamo un'associazione cioè siamo un insieme di persone che lavora per le persone è vero che nel nostro consiglio direttivo ci sono degli enti ma ci sono degli enti perché nel 1968 quando si volle fondare l'associazione già si intravedeva nelle potenzialità dei lucchisi nel mondo il valore culturale il valore economico e il valore turistico perché questo significava la presenza dei sindaci dell'ente provinciale del turismo e della camera di commercio ora l'associazione lucchisi nel mondo sede di lucca non è un organismo autoreferenziale non parliamo a noi stessi e non parliamo esclusivamente con coloro che contribuiscono alle nostre attività finanziandoci noi parliamo ai nostri soci nel mondo noi abbiamo 80 sedi all'estero e abbiamo 8000 famiglie che sono legate a noi da un notiziario trimestrale che è un po' singhiosso però esce e con questo notiziario trimestrale manteniamo un legame fondamentale rispetto ad un bacino di utenza che oggi si presenta molto variegato e questa è la nostra difficoltà attuale non solo nostra ma di tutte le associazioni di immigrazione che dobbiamo affrontare e che ci pone una sfida nuova e una prospettiva nuova perché da una parte abbiamo la vecchia immigrazione cioè coloro ancora vivi che sono partiti nel dopoguerra ne posso citare tanti che forse voi conoscete e che laggiù mantengono un legame con la madrepatria con la lucchesia basato fondamentalmente sulla nostalgia e sono i nostri emigranti che tornano a Santa Croce e solo a Santa Croce non riusciamo a farli venire a luglio come per i giorni di San Paolino non riusciamo a farli venire a marzo per la festa delle camellie a Capandoli ma vengono esclusivamente a Santa Croce per questo senso di appartenenza ad un territorio perché qui sono nati però abbiamo anche i loro figli e i loro nipoti e questi figli e soprattutto i nipoti sono la nostra risorsa per il futuro e sono i nostri soci che dobbiamo diciamo mantenere in contatto con noi con un insieme di attività fondamentalmente diverse ed ecco la valenza nuovamente e spiccatamente culturale della nostra associazione perché il riappropriarsi delle proprie origini oggi è motivato dall'orgoglio per sentirsi parte di una storia di una tradizione di una cultura lucchese ma più in generale italiana questo mi viene in mente stamattina perché stamattina stavamo ridefinendo il progetto culturale per partecipare all'assegnazione delle casermette questo abbiamo detto cioè l'associazione lucchese nel mondo oggi si pone come un ente che fa cultura e fa promozione del territorio lucchese perché laddove questa cultura questi eventi culturali vengono organizzati all'estero le nostre 80 associazioni diventano eventi che valorizzano la nostra provincia dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista economico domani partirà una delegazione della fondazione della banca del monte di lucca credo non sia un segreto alcuni lo sanno che andrà a San Francisco per incontrare operatori economici e favorire uno scambio economico basandosi sulle nostre comunità quindi c'è ancora un legame sulla nostalgia ma c'è anche una prospettiva economica importante per le nostre imprese e una prospettiva culturale e di ritorno turistico fondamentale ricordava Francesca Fazzi il messaggero di Lucca il primo ritrovo dei tutti lucchesi fu nel 1953 e fu denominato la giornata dell'emigrante turista quindi a dire della valenza che si voleva dare a questo tipo di emigrazione e poi beh ci sono i nuovi emigranti quelli di oggi chiamarli emigranti è un po' strano mi fa strano sono persone che girano per il mondo sono cittadini del mondo noi quest'anno ne premeremo alcuni nati a città del capo a pretoria che hanno studiato a Londra poi si sono trasferiti a basilea e queste sono lucchesi sì sono lucchesi ma hanno una prospettiva più ampia che va al di là ci sono certamente persone preparate ci sono persone meno preparate che vanno indirizzate aiutate per cercare che non diventino preda di facili illusioni perché anche oggi ci sono le facili illusioni una una fra tutte è quella dell'Australia e permettetemi di fare un breve inciso l'Australia attira moltissimi dei nostri perché ha la possibilità di dare un visto annuale per lavoro e vacanza quindi una persona senza troppi problemi va laggiù un giovane può stare un anno e può lavorare molti partono con l'idea di rimanere credo che molti torneranno non potendoci restare non voglio aggiungere altro se non che proprio la nostra associazione ha in cantiere progetti quindi legati al recupero culturale alla valorizzazione del territorio all'estero legati alle linee guida importanti del nostro territorio a Giacomo Puccini alle mura di Lucca e al nostro patrimonio culturale grazie parlare della nuova immigrazione di qui effettivamente è un argomento abbastanza complicato e diventa difficile ma sicuramente quello si possono fare mille iniziative per dare formazione e dare informative ma credo che in questo momento l'associazione Lucchesi nel mondo sia un riferimento ancora più importante perché 80 sedi sparse in tutto il mondo sicuramente sono un ottimo una base un riferimento importante per il nostro giovane laureato che va all'estero quindi forse in questo senso andrebbero incoraggiati trovare proprio dare la possibilità di un contatto stretto proprio a seconda delle zone dove vanno ma mi sembra che sono coperte abbastanza in questo senso per quello che invece riguarda lo vorrei sottolineare l'immigrante che poi tra parentesi ci ho pensato tante volte questo termine immigrante qualcuno cerca di scansarlo sembra quasi limitante e tutto e alla fine invece è una parola che ha una sua valenza importante all'inizio anche noi si dà un premio una targa ma la festa dell'immigrante sembra una cosa un po' datata soprattutto per queste e poi alla fine dice no è un termine fondamentale è l'orgoglio di dire io sono andato e ho ottenuto e ho fatto questo qui è fondamentale e basilare le radici profonde non congelano questo è un dato è un dato di fatto ecco l'importanza tra parentesi del nostro migrante che rientra che differentemente da quello che succede in un'economia in economia generale abbastanza preoccupante questi hanno dei capitali sani che vengono con con piacere con passione a investire in quelle che sono la casa natale e questo è importante e vi posso dire che solo nel 2014 io ho fatto 5 sono pochi ma non sono tanto pochi 5 matrimoni di pronipoti dei migranti che sono voluti a tornare a fare il loro matrimonio portando tutto il gruppo di ospiti 70-80 amici parenti eccetera eccetera nel paese natale alcuni di questi sono venuti l'anno prima perché oramai avevano perso le tracce a cercare qualche parente con una con una commozione persone che non erano mai state in Italia sicuramente nel paese ma mio nonno mi raccontava che e quindi passano dal comune e risentono questa voglia di legame che è importante che va sostenuta e sicuramente con una struttura con una struttura che è adatta a questo compito si riesce sicuramente a farci insieme a quella che è una valorizzazione culturale storica tradizionale anche un'economia di non poco conto grazie devo dire che in questa ora e mezzo di spunti e di riflessioni anche io ne potrei far tante con tantissime analogie e tantissime differenze che sembra paradossale ma in 60 chilometri o 50 o meno di distanza hanno caratterizzato la storia della nostra provincia e del nostro territorio però ecco non ritorno su questa cosa abbiamo condiviso col presidente della fondazione Cresci nel nostro colloquio insomma il ragionamento di affrontare il problema della nuova immigrazione lo diceva prima lo condivido appieno credo ci sia la necessità da un lato di fare rifare un'analisi storica dell'immigrazione più recente anche insomma degli anni che vanno dopo la seconda guerra mondiale o ancora più vicina più vicina a noi e l'altra necessità cercare di dare ai nostri giovani o meno giovani insomma che decidono di lasciare il nostro paese per tutti i motivi anche qui che avete giustamente sottolineato dei punti di riferimento in questo contesto credo veramente che una collaborazione fra le istituzioni del territorio la fondazione e l'associazione lucchesi del mondo possa essere un nuovo punto di partenza per tutti un nuovo obiettivo da darci nel prossimo futuro chiudo dicendo che come Unione dei Comuni da diversi anni stiamo facendo lo dicevo in apertura questi progetti di scambi culturali grazie al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano esperienze importanti che portano ripeto persone a tornare e a creare appunto in quei territori punti di riferimento anche rapporti diciamo così sopiti da anni che si risvegliano come nella piccola frazione di Massa Sassorosso nel comune di Villa Collemandina insomma due comunità che si sono ritrovate in questi anni e che insomma negli eventi anche recenti hanno creato un rapporto continuo e costante insomma qualcosa che è rinato e questo è già un grandissimo successo abbiamo voluto con un progetto europeo di quest'anno incentivare il percorso inverso cioè ragazzi italiani della Garfagnana che andranno nelle comunità all'estero insomma di emigrati un progetto europeo di formazione di scambio principalmente legato al turismo quindi creare rapporti stabili in settori come appunto quello del turismo insomma noi su questo ecco come ente territoriale se devo dire e forse questo maniera ecco devo dire purtroppo da pochi anni ma anche permettetemelo dovuto alla gioventù insomma del nostro del nostro ente e al fatto che i nostri piccoli comuni trovano difficoltà se non anche se profondamente segnati perché mi veniva in mente gli iscritti all'aere del comune di Piazza del Serchio di cui io sono sindaco un comune di 2500 abitanti scena circa 400 quindi voglio dire forse e in rapporti ancora molto più laddenti molto più dimenticati della prima emigrazione che nessuno forse ecco per l'entità ridotta del comune o per rapporti che ormai sono talmente lontani del tempo continua a coltivare se non ripeto figli di figli che continuano a chiedere la cittadinanza l'iscrizione all'aere e quindi una serie di pratiche infinite anche per i nostri piccoli uffici anagrovi però ripeto la dimensione invece dell'unione in questi ultimi anni ci ha permesso di riscoprire anche in Garfagnana un aspetto importante come dicevo all'inizio della nostra storia e che ecco forse vale la pena oggi tentare di valorizzare nuovamente rispetto alla nuova immigrazione insomma noi siamo a disposizione e faremo la nostra parte grazie bene grazie grazie a tutti particolarmente ai nostri ospiti al sindaco quindi invito tutti a prendere un caffè insieme forse a continuare a farci domande su questo tema che si è rivelato così stimolante così ricco di spunti di discussioni e di interesse molto contemporanei permettetemi un ringraziamento particolare all'area del bianco che ha accettato di condividere questa esperienza che è risultata molto partecipata e che ha dimostrato la voglia ancora di tante persone diverse di estrazioni diverse di discutere su temi problemi e problemi della nostra cultura e l'area del bianco la cui competenza insomma io la stimo molto e prossimamente so che sarà relatrice al congresso nazionale dell'associazione di migranti quindi diciamo rappresenterà con autorevolezza le nostre comunità grazie a tutti grazie grazie a tutti